Ciao a tutti amici di Youtube, io sono Giulia Makeup, volevo fare un breve vlog perché tra un po' dovrò andare in palestra sono andata a prendere le mie ricette perché io prendo delle pasticche per la depressione, l'ansia più che altro e qui non c'è nessuno, niente, vi volevo dire come state, tutto bene, vi è piaciuto il trucco che vi ho messo, ci sta il video precedente, il trucco che ho fatto, uno dei trucchi migliori che mi è uscito non c'è nessuno perché fa un freddo allucinante, queste sono le chiavi della mia macchinina, tanto palestra ce l'ho alle 5 e mezza ho parcheggiato giù in fondo perché ho trovato subito posto nelle righe bianche, quindi non ha pagamento allora, che dire, siamo tornati alla routine di tutti i giorni, io sono contenta perché sto andando costantemente in palestra in modo continuativo, quindi sono fiera di me stessa, poi mi stanno invitando a cena fuori, io ho detto di no perché sto a dieta a colazione sto mangiando davvero poco, quindi diciamo che i dolci li mangio, oggi li ho mangiati perché sono in preciclo solo quando mi sta per venire, ecco, mangio un po' di dolci, il resto non le mangio più perché si sa, noi donne e qua ancora ci sono le decorazioni natalizie perché qua da me si usa che si tolgono il 14 gennaio che è il padrono di Spoleto, San Ponziano, il protettore dei terremoti, si dice e infatti si dice Spoleto tremerà ma non crovererà, l'aveva detto lui, San Ponziano perché qua ultimamente c'è sempre il terremoto, però io non sento niente perché dormo come un sasso niente, io sono arrivata in palestra con la mia macchinina, vi faccio vedere oddio aspetta, eccola, Ionic si chiama, fitness e salute, questo è il cancello, io ho parcheggiato qua fuori e vi farò un vlog quando entro dentro, cercherò di riprendere qualcosina già stanno sul tapirulana a camminare, è tanto freddo veramente, prima ho fatto una maschera viso, quella della Geomar, mi ricordo solo che è idratante e antistress, l'ho finita e mi ha resta la pelle morbidissima e me l'ha migliorata un pochino, mi ha levigato i brufoli quindi ci voleva, sto vedendo che facevano in palestra, ora ve la faccio vedere un pochino meglio, e niente che altro, spero che il video precedente vi sia piaciuto, è il trucco migliore che mi sia, che mi sia, che mi è venuto in tutta la mia vita perché è il trucco migliore insieme a un altro con la palette della Max Factor intanto vedo quello che cammina non so se lo vedete della Max Factor, quelle palettine piccole io ce l'ho sui toni del grigio barra viola, la volevo prendere anche sui toni dell'azzurro glitterato perché sono molto molto valide e anche con quella mi era venuto un trucco stupendo, veramente e quello la voglio comprare domani mi vado a fare le unghiette queste qua fanno pietà veramente meglio non farvele vedere me le farò a viola e vi metterò la foto dopo a fine video niente questo io ho parcheggiato fuori dal cancello perché si può parcheggiare anche fuori dal cancello vi faccio vedere un po' l'entrata un po' lo spogliatoio un po' così per per fare video vlog perché ormai ci ho preso la mano e niente mi piace fare video vlog a dopo la conclusione la farò quando torno a casa ciao ci becchiamo dopo ecco qua questa è la mia palestra unique fitness e salute su ci sono tutti gli attrezzi vedete questo è lo spogliatoio il femmine eccolo qua guardate questo è il mio zaino poi questa a mia forza e ora io prendo sempre il 113 sono affezionata a questo giubbetto qua scarpe a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.